Ciao, ciao. No, ciao. Ciao. Ai congressi sono iniziati, migliaia di persone stanno partecipando a questa grande festa della partecipazione della democrazia, del partito democratico. Molto bene i dati della mozione Renzi, della proposta che stiamo avanzando il PD, perché a livello nazionale siamo oltre il 60%, ci sono dei bei risultati ovunque, Emilia Romagna compresa, questo per noi è molto importante, naturalmente dobbiamo continuare anche nei prossimi giorni, ma la cosa importantissima è che tanta gente decide di partecipare a questo sforzo di democrazia, di partecipazione utile al PD e utile all'Italia. Grazie. 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 Grazie.